numero 5 questa è un'innovativa macchina da caffè che offre un'esperienza di degustazione unica e autentica con un design elegante e sofisticato si adatta perfettamente a qualsiasi cucina aggiungendo un tocco di stile ma non è solo una macchina da caffè è molto di più con jolie e milk avrai la possibilità di preparare non solo il classico espresso italiano ma anche un autentico cappuccino cremoso grazie al suo cappuccinatore integrato potrai creare una schiuma di latte soffice vellutata proprio come quella del barista finalmente potrai goderti una deliziosa tazza di cappuccino nella comodità della tua casa il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 gaggia naviglio deluxe è un vero gioiello italiano per gli amanti del caffè con una semplice pressione di un pulsante questa macchina super automatica ti regalerà risultati eccezionali senza alcuno sforzo ciò che rende questa macchina davvero speciale è il suo design elegante e l'attenzione al dettaglio essendo completamente made in italy puoi essere sicuro della qualità e dell'autenticità che offre una delle caratteristiche più interessanti è il macina caffè integrato in ceramica questo significa che potrai gustare sempre un caffè fresco macinato al momento che esalterà i sapori e gli aromi della tua bevanda preferita se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 la macchina per fare il caffè completamente automatica sa eco gran aroma è una vera e propria rivoluzione nel mondo del caffè a casa dotata di un macina caffè incorporato e di un montalatte questa macchina ti permette di preparare bevande personalizzate esattamente secondo i tuoi gusti grazie al display tft a colori puoi selezionare il profilo preimpostato e goderti un caffè delizioso come quello che ti servono al bar non avrai più bisogno di macina caffè o montalatte separati perché tutto ciò di cui hai bisogno è integrato in questa macchina la facilità d'uso della sa eco gran aroma è un vero punto di forza in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 la magnifica s cappuccino è una macchina super automatica che presenta un design elegante e minimalista con linee pulite che si adattano perfettamente a qualsiasi stile di cucina ma non lasciatevi ingannare dalla sua estetica semplice perché questa macchina è dotata di una potenza e di una funzionalità sorprendenti uno dei punti di forza è la sua capacità di macinare il caffè all'istante garantendo così un espresso sempre fresco e perfetto basta un semplice tocco di un tasto e sarete pronti a gustare un caffè aromatico con una schiuma morbida e cremosa che vi lascerà senza parole trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 questa macchina per caffè è una vera e propria delizia per gli amanti del caffè è fresco e aromatico il suo sistema di erogazione intelligente garantisce una perfetta temperatura e un sapore irresistibile ad ogni tazza uno dei punti di forza di questa macchina è il pannarello classico che ti permette di preparare cappuccini cremosi e latte macchiato senza alcuno sforzo basta un semplice movimento per ottenere una schiuma densa e vellutata che trasforma ogni bevanda in un'esperienza deliziosa inoltre il menu my coffee choice ti consente di personalizzare l'intensità e la quantità del tuo caffè se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione